Ok, siamo qui con un altro video sul meraviglioso Blackshot E nulla Usiamo la mappa del Natale anche se adesso è estate Ma a noi chi se ne frega Ma comunque ciao a tutti ragazzi C'è sempre il signor Pat che sarebbe Marcello Sterchi E io sono sempre Aria Got perché non posso cambiare il profilo E nulla Useremo il cecchino più scrauso del gioco Che pure è quello gratuito e infinito E fa proprio schifo Ma proprio tanto No non c'è lo scogliato Eccolo qua lo scogliato lo simpaticone Niente katana Niente armi melee Solo cecchino ok Eh solo cecchino va bene Cazzo Pisello E vai si inizia la grande con headshot Sono troppo bravo In realtà è tutto culo Oh mi ricarichi il cucina mezz'ora dopo Le armi melee solo per correre più veloci perché Altrimenti con sta roba qua ci mettiamo in trent'anni No Sì ho capito capito ma Mamma mia Non so neanche se esistono i quick scoop su sto gioco No non penso No si c'è il tuo F Eh dai Mamma mia Porca troia Eh se finisco Se dovete capire che su sto gioco usare il cecchino è una cosa Anche perché i proiettili se vi muovete Non vanno dove il mirino sta mirando Ma vanno puttane Che cazzo ne so io Eh va Eh una volta l'ho colpito Ma mi son dovuto fermare Sennò domani mattina lo colpivo Solo che se finiscono i proiettili Siamo obbligati a usare Ah siamo obbligati si No che cazzo Ho di non scheggiato F Dove cazzo si è ficcato Ragazzi F in questo gioco sarà il vostro peggior nemico Ah si si Dai Ma guarda i colpi che vanno a fanculo Eh vai di nuovo headshot Mamma mia Dai la granata però in metà In metà campo si può raccogliere Tirare la carta Si colpisce Dove sarà Ma ci sta No ho premuto F Dai E vai Lezzino Lezzino Cazzo No eccomi Sì Quisco si possono fare Ma c'è una roba Troppo difficult E vai C'è un caricatore Per colpirlo una volta E vai Alle ginocchia l'ho ucciso Ah ma Adesso Inizio a giocare bene Dai ma quell'albero lì c'è Non ti fa E cazzo E l'albero di Natale E' un buon riparo Anche se non è realistica come cosa Però E' un riparo Gli hitbox di questo gioco ragazzi sono una cosa favolosa Adesso dove Adesso mi arriva nel culo Mi arrivi Che poi è una cosa bruttissima da dire Vaffanculo Ciolo E vai E vai Poi lo devo rivedere sto video Perché Devo capire come cazzo piace i carni mentre ti muovi Guardalo No di uno schiacciato F Dove cazzo sono Porca miseria Poi il brutto di sto fucile Oltre ad essere scarso Sono anche pochi colpi Ho messo per sbaglio la spada Ah è perché con Q poi potete cambiare l'arma Ma perché non ti col... Eh adesso non ti ho preso in teoria La troia Ma come ho fatto Dai Ma porca troia Oh ma di nuovo Oh tanto l'alberello mi protegge Ma vaffan cucciolo Mi ha colpito E adesso è meglio che mi muovo perché Appena spawna la gente Di colore blu o rosso Dipende da squadra Al quale appartiene E in quel momento lì è invulnerabile No perché ha cambiato arma? Ficco ho cambiato arma Eh porca troia Eh mamma mia Stava ricaricando Pove gigia Come non l'ho colpito Ragazzi per shottare questo fucile di precisione dovete per forza prendere in testa E' come su battle E' come su battle praticamente Ah si Con sto qua si se no due colpi O tre dipende un po' le volte Un po' come gli gira il cazzo Al gioco L'ho sentito sparare ma non so dove è L'ho perso L'ho perso in una mappa 4x4 porca troia Oh catoia dov'è? Perché poi non schiaccio F adesso che mi potrebbe servire Vabbè E vai L'ho preso in ritardo ma l'ho preso perché il mio proiettile aveva sonno Si ma te c'hai like? C'hai Noo Oh si è vista una roba della tipetta Speriamo che youtube non mi censuri il video non me lo tolga via Perché sembra veramente quello Non guardate se siete minorenni No come non l'ho colpito? E l'ho colpito Come non l'ho colpito Dai non ti muoverci E fermo Guarda che lui salta Fa il pro Eh no Però sto vincendo io manco me ne ero accorto Mi sa che 10 minuti sono troppo pochi Con sto fucile qua si vorrebbero 3 ore per fare 20 uccisioni No di nuovo ho schiacciato F Devo staccarmi il tasto F Eh vai Ma porca Troia pensavo arrivassi da destro Il pupazzo di neve è troppo fiaigo Ma porca troia ma devi ricaricare sempre Prima hai laggato No hai laggato te Credo di si Voglio andare in aria un attimo Madonna Possibile usare sto cazzo Ciochino Prendiamola Eeeh Non te l'aspettavi eh Non te l'aspettavi Dai No cazzo No Vediamo un po' Dove Ma dai come No ma non è possibile Se non mi colpiva lo prendevo in faccia piena proprio Dunque magari faremo anche delle partite online Per far vedere un po' come giro il gioco E i server sono migliori che quelli di COD Veramente Sì sì Raramente laggo Ma proprio se Tranne alle 9 di sera Che la mia connessione è vacuta Però può non sembrare ragazzi Ma ce n'è di gente che gioca sto gioco Sì E poi c'è un botto di mappe sulla fine Sì ci sono tantissime mappe Come non l'ho preso Adesso sì C'è solo più un minuto e 46 secondi È meglio Che non faccio il coglione E va Guarda lì che coglione che sono Scappa Dove cazzo è andato Il pier Dai se non ti spostavi Cazzo No Se non avevo la mira Pacca cazzo E vabbè Il mio colpo va a puttane No Non ho sparato per No ma se aspettavo un millesimo di secondo Era morto E vai C'è E Come hai fatto a non prendermi Ero fermo E vabbè E vabbè Dove cazzo l'ho lanciata la granata Ok Credo che ci sia Stato Un leggero Vaffanculo Lag Ci sia stato un leggero Vaffanculo No Mi sono di nuovo perso quei tasti La D è qua C'è l'albero di Natale che mi rompe Nei cocomeri No Eh vai Ma che cazzo Dove cazzo Come non ti ho colpito in testa Ma che cazzo fai Eh vai ho vinto di nuovo io Eh il supremo E niente Anche per sto video E tutto Io vi saluto Oppure dei rewards Wow E pigliamoli E niente Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti